Questo è il riassunto della prima giornata di test in Bahrain. Max Verstappen è il pilota per eccellenza. Non solo la macchina va forte, ma è lui che la perfeziona. Ed è per questo come fa ogni volta, va primo. Ah, Ferrari, 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 come siamo messi? Non male, devo dirlo. Niente male, però si potrebbe farti meglio. Charles Leclerc, nostro grande amore in pista. Allora praticamente c'è un tizio che dice Eh, adesso è finito, adesso il nostro Martin farà schifo. Eh? Volevi! Anche De Vries è bellissimo da vedere in pista. Come ha sorpreso con la Williams, ha sorpreso anche con l'Alfa Tauri. Incredibile! Eh, il povero Dugovic, che deve parcheggiare l'auto addirittura all'inizio dei test. Cosa molto brutta, vista direttamente da Nando ai box, che con una faccia drammatica si dispera per il fatto che poi pomeriggio dovrà guidare lui. E per il resto, ci vediamo domani! Can't control the monster any longer that's inside The pain and sorrow left to swallow No tomorrow's hard to swallow Death is calling, so I'm crawling Time road walking, now I'm falling down